Giulia è una giovane ragazza di 25 anni, diciamo, che sarebbe destinata al matrimonio, alla famiglia, alla vita, diciamo, semplice di una casalinga, che poi non è una vita semplice, però insomma è una vita senza troppi, senza insomma il lavoro, e per trovare se stessa decide di entrare nel mondo RAI e accetta un posto da, inizialmente da segretaria nel mondo della RAI. Nello studio 1 di Via Teulada, un gruppo di artisti straordinari stava per realizzare lo show che avrebbe cambiato la storia della televisione italiana. È un po' l'occhio di questa serie, l'occhio del pubblico, è la voce off, è colei che ci fa entrare nel mondo di queste altre due ragazze, che sono interpretate da Diana del Bufalo e da Giusy Buscemi, e tramite lei insomma entriamo in questo mondo di lustrini. Lorenzo Giannelli è un ragazzo dal passato che verrà man mano svelato durante la serie, che perché non è del tutto trasparente, specialmente all'inizio, comunque si presenta come un giovane ragazzo di origini non particolarmente agiate, che cerca di entrare all'interno dell'azienda RAI, perché il suo sogno sarebbe diventare regista, programmista televisivo. E mano a mano, passo dopo passo, diventando assistente prima di Sacertote, poi addirittura di Falqui, riuscirà ad avere accesso agli ambienti in cui venivano creati i programmi in quegli anni in RAI. e in particolar modo nella nostra serie si assiste all'anno in cui venne ideato e creato e messo in onda questo programma, che poi diventò iconico, perché al suo interno si esibirono personaggi del mondo dello spettacolo che poi diventarono parte del costume nazionale, sì, che era questo Studio 1 e Lorenzo fa parte delle persone dietro le quinte del programma. Sicuramente noi siamo molto più fortunate oggi, però le dinamiche, devo dire, sono un po' le stesse. La cosa che più ovviamente caratterizzava la donna degli anni 60 è che spesso per trovare una propria identità, per avere una propria libertà, dovevano scegliere di sposarsi per uscire dalla casa del padre, mentre oggi invece abbiamo un'indipendenza conquistata quasi subito. Quindi questa indipendenza poi ci porta anche spesso ad avere famiglia molto più tardi, perché ci godiamo tutto questo. Mentre prima era un po' una scelta obbligata se si voleva trovare un po' una propria identità femminile. Senz'altro era un mondo lontanissimo da oggi dal punto di vista delle tecnologie, senz'altro, ma questa è quasi una banalità da dire. Inoltre, una cosa che invece spesso non viene considerata, invece è stata giustamente messa all'interno della serie, è che la società italiana del tempo era molto più bigotta e moralista. Per cui c'era un rapporto con i dettami, i dogmi cattolici molto più presente sulla vita delle persone. E quindi sicuramente rispetto alla società di oggi, da questo punto di vista, ci siamo più affrancati e siamo anche diventati più tecnologici, come si suol dire. C'era una volta Studio 1, la fiction. Lunedì 13 e martedì 14 febbraio alle 21.25. Rai 1. Quello che prova Giulia, la sofferenza nell'affermare l'essere donna di Giulia, di Giusy in questo caso, e anche di Diana, è un po' simile a quello che c'è ancora oggi. Purtroppo anche noi donne oggi in ambienti di lavoro dobbiamo ancora combattere per dimostrare che non siamo soltanto un corpo, ma abbiamo anche una mente. E' ancora un po' una società maschilista, diciamocelo. Però, e quindi siamo più o meno, non c'è tutta questa grandissima differenza, però ce la facciamo. Siamo sempre noi poi alla fine che comandiamo, sappiatelo. Lo vorrebbero vedere, c'era una volta Studio 1 perché, secondo me, assistere alla ricostruzione di un affresco di un'epoca del nostro paese è sempre un'esperienza interessante per lo spettatore. E poi perché questi ragazzi, o comunque questi giovani, nonostante si muovano in una società che purtroppo nei decenni è molto cambiata, però è sempre la nostra, possano essere da esempio magari per i ragazzi dei giorni nostri che hanno finito il percorso di studi e vogliono affacciarsi alla professione. Quindi assistere a storie di persone che inseguono un sogno e, come in ogni fiction che si rispetti, riescono pure in qualche modo a realizzarlo, credo che sia di stimolo e è anche un servizio importante di una fiction, soprattutto Rai. Perché non siete gli spettatori, dovrebbero vedere, c'era una volta Studio 1? Ma per chi faceva parte, per chi ha visto e vissuto quell'epoca, per ricordare, per risognare, per chi non conosce quel periodo, sicuramente per innamorarsi di un'Italia che ce la faceva, di un'Italia che sognava e che si univa per conquistare la propria libertà. E questo poi noi raccontiamo. Il sogno è un derivante della libertà, la libertà di sognare è veramente una ricchezza per chiunque noi, non tutti possono farlo. E quindi raccontiamo un po' questo, speriamo di essere un po' da esempio. Ma voi ci pensate che alla nostra età è già un mito? Ciao Spettacolo che Spettacolo, vi aspetto il 13 e il 14 febbraio in prima serata sul Rai 1, c'era una volta Studio 1. Saluto Spettacolo che Spettacolo e vi aspetto tutti il 13 e il 14 febbraio sul Rai 1 con Studio 1. E come dice Diana, il bufalo di sera, mi raccomando.